In questo momento ci vuole coraggio, determinazione, passione e anche un pizzico di inconscienza, nel senso pure del termine. Sappiamo che attraversiamo un momento difficilissimo, però l'organizzazione per il momento ha funzionato benissimo. Volano la schiranna via Etere, queste parole di Giuseppe Abagnale, mito dello sport italiano e presidente della Federazione Italiana Canottaggio, che arriverà in città domani, primo giorno della prima grande manifestazione di sport internazionale di questo 2021, ancora in piena pandemia. Nonostante il Covid, nonostante la zona rossa, Varese e il suo lago, ideale per il Remo, manderanno in scena gli europei di canottaggio che, fino a domenica 11 aprile, metteranno in acqua oltre 650 atleti di 35 nazioni, pronti a sfidarsi per le 72 medaglie in palio, come dice Pierpaolo Frattini, ex azzurro e direttore dei campionati. Finalmente ci siamo, sono appena terminate le regate di qualificazione olimpiche ed è ufficialmente iniziato l'europeo di canottaggio. Abbiamo oltre 650 atleti presenti e da domani cominceranno le gare. Saranno dei giorni molto intensi perché ci saranno gare dalla mattina alla sera, visto l'altro numero di partecipanti. Però abbiamo avuto veramente un riscontro importantissimo, sia in termini numerico che in termini di qualità delle nazioni e degli atleti. Vedremo veramente il massimo del canottaggio internazionale. Purtroppo il vento ci ha un po' dato fastidio nei giorni scorsi, ma adesso le previsioni meteo sono ottime. Il campo gara è perfetto, tutti gli equipaggi adesso non vedono l'ora di uscire in acqua per fare gli allenamenti e per poter remare sul nostro lago che è in condizioni ottimali. Il lago di Varese è ormai famoso in tutto il mondo proprio per il suo campo di gara esclusivo, come sottolinea Sara Bertolasi, non solo atleta ma neoconsigliere della Federazione Italiana Canottaggio, rimarcando anche le capacità organizzative dei varesini. La stagione 2021 riparte da qui con i campionati europei, a nove anni di distanza dalla prima edizione che è stata nel 2012, che ha lanciato Varese in Europa ma soprattutto in tutto il mondo. La Federazione Italiana Canottaggio è orgogliosa sempre di avere eventi in Italia, in modo particolare Varese, perché ha una macchina organizzativa ben rodata ed efficiente e anche un grandissimo gruppo di volontari che fa sì che Varese sia una punta di diamante del canottaggio nazionale ed internazionale. Gli europei di canottaggio rappresentano un'occasione e una speranza per Varese e per lo sport, come ribadisce il sindaco Davide Galimberti. Un'occasione per riaffermare e consolidare il ruolo di Varese nell'organizzazione di eventi internazionali in ambito sportivo. E poi un grande messaggio di speranza per lo sport. Ovviamente qui si confronteranno i grandi campioni del canottaggio, ma è un messaggio positivo per la ripresa di tutta una serie di attività sportive, soprattutto dei più piccoli, che non vedono l'ora di entrare nelle acque di questo lago per praticare il canottaggio, ma altri sui campetti di basket, nelle palestre. Quindi da questo appuntamento sportivo importante arriva anche questo messaggio di futuro verso una ripresa complessiva delle attività sportive. Purtroppo senza spettatori alle regate a causa del Covid, la manifestazione sarà però proposta a livello internazionale, come ricorda Luca Broggini, voce del canottaggio italiano. Anche senza pubblico questi campionati europei saranno un grandissimo evento mediatico. Da casa si potranno seguire in tutta l'Europa grazie alle immagini distribuite dal comitato organizzatore a tutte le principali testate europee. In Italia, per esempio, Rai Sport in diretta dalle 10.30 del mattino alle 4.30 del pomeriggio. Una sovraesposizione per Varese. Il canottaggio che diventa uno sport per tutti, uno sport alla portata di tutti e quindi avremo modo di promuovere anche un po' il nostro territorio.